Domani 8 gennaio si parte con i tamponi rapidi per il coronavirus. Dopo le città capoluogo inizia lo screening di massa anti-covid per i cittadini di Fano, Mondolfo, Cartoceto, Monbaroccio e San Costanzo. Dall'8 al 13 gennaio tutti coloro che vorranno sottoporsi al test antigenico potranno farlo in modo sicuro e gratuito. Dalle 8 alle ore 13 e dalle 15 alle ore 19 ci si potrà recare indistintamente in uno dei quattro punti allestiti dall'area vasta. Al Codma di Rosciano, in via Tommaso Campanella, alla palestra Venturini di via San Paterniano a Fano oppure al bocciodromo comunale di Marotta, in Viale Europa e nel ristorante La Tagliata di via Monbaroccese. In quest'ultimo caso l'obiettivo è quello di favorire gli abitanti di Monbaroccio e Cartoceto ma sarà aperto per il test soltanto nelle giornate di lunedì e martedì. Non serve l'appuntamento ma è consigliata la stampa del modulo già compilato che si può trovare nelle farmacie, nel sito del comune di Fano e in quello dell'Asur. Il modulo verrà distribuito anche all'esterno delle strutture dai volontari della protezione civile e della Croce Rossa. Non potranno partecipare le persone che hanno sintomi che indicano un'infezione da Covid, chi si trova attualmente in malattia per qualsiasi motivo, le persone risultate già positiva al virus negli ultimi tre mesi, così come chi è in quarantina o in isolamento fiduciario. Esclusi anche i bambini sotto i sei anni, coloro che seguono regolarmente il test per motivi professionali e persone ricoverate nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, comprese le case di riposo pubbliche e private. I tempi di attesa per la risposta saranno brevi poiché il risultato verrà comunicato in maniera anonima entro 15 minuti. Gli eventuali positivi saranno poi sottoposti al tampone molecolare.